Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe NBC e benvenuti all'interno del nostro approfondimento dedicato al mercato del Lime, la borsa delle piccole e medie imprese. Come tutti i lunedì abbiamo il piacere di avere con noi Cristian Frigerio di Mitzim, che passiamo subito a salutare. Buongiorno Cristian. Buongiorno a tutti. E come tutti i lunedì il nostro Cristian Frigerio ci farà l'analisi fondamentale di una società del Lime. Cosa ci hai portato questa volta Cristian? Oggi parleremo di Poligrafici Printing, un titolino sotto i riflettori nell'ultima seduzione. Prego allora, prego, comincia pure. Sì, Poligrafici Printing opera sul mercato italiano ed europeo della stampa industriale con una capacità produttiva articolata su rotative di tipo roto-offset, quindi con e senza forno, operative 24 ore al giorno, fino a 24 ore al giorno, e localizzate nei centri stampa di Bologna, Firenze, Milano e Loreto. L'azienda è controllata dal gruppo Monriff, fa parte del gruppo Monriff, legato alla famiglia Monti Riffesera, ha sede a Bologna e ad oggi conta circa 90 dipendenti. Il debutto su EIM di Poligrafici Printing risale al mese di marzo del 2010, quindi è quotata da quasi 11 anni. All'epoca raccolse circa 3,2 milioni di euro ad un prezzo di 1,03 euro per azione. Passando ai dati di conto economico, primo semestre 2020, questa è la slide successiva, primo semestre 2020, valore della produzione ad 11,7 milioni, in calo dell'11,2% rispetto ai primi sei mesi del 2019, EBITDA a 2,96 milioni con una marginalità stabile al 25%, EBIT in calo ad 1,9 milioni, anche qui la marginalità EBIT su valore della produzione più o meno stabile al 16,3%, è risultato netto in calo ad 1,16 milioni rispetto agli 1,5 milioni dei primi sei mesi del 2019. Diciamo che l'attività di Poligrafici Printing non ha subito più di tanto il lockdown e la crisi del Covid, quindi il calo del valore della produzione è più legato ad altri fattori che non di fatto alla crisi del Covid, comunque la società in ogni caso ha intrapreso tutte le misure necessarie per contenere al massimo i costi, cosa che fa già da diversi anni e quindi a operare nel miglior modo possibile. Tabella di sinistra, ultimi due esercizi, 2019 valore della produzione a 26 milioni, EBITDA ha 6,14 milioni con una marginalità del 23,5%, Poligrafici Printing ha un'ottima marginalità sicuramente per essere una società che opera in un settore che possiamo considerare la fine industriale, l'EBIT è pari a 3,7 milioni rispetto ai 3,5 del 2018, mentre il risultato netto è in calo ad 1,8 milioni rispetto a 2,4 milioni del 2018, questo per effetto di svalutazioni. Passando alla slide successiva vediamo l'andamento di valore della produzione EBITDA e PFN degli ultimi 7 anni, dal 2013 al 2019, vediamo che nel 2015, 2016, 2017 c'è stato un forte calo del valore della produzione che si è dimezzato, è passato da 57 milioni a 26 milioni circa nel 2017, però nonostante questo l'EBITDA è addirittura migliorato, vediamo fino a 9,1 milioni nel 2016 e vediamo anche la progressiva riduzione dell'indebitamento finanziario che è passato da circa 30 milioni nel 2016, addirittura a cassa netta per 2,8 milioni nel 2018, la società ha intrapreso negli anni scorsi un'attività di turnaround diciamo così, focalizzandosi su quelle che sono le attività core più redditizie, quindi ha portato avanti questa fase, attività di ristrutturazione riducendo progressivamente l'indebitamento finanziario e migliorando anche la marginalità, raggiungendo una marginalità superiore al 20% di EBITDA rispetto al valore della produzione, quindi sicuramente è vero c'è stato un forte calo dei ricavi, ma un miglioramento dell'efficienza e della struttura finanziaria. Passiamo alla slide successiva, i dati di stato patrimoniale, primo semestre 2020, capitale investito netto a 25,8 milioni, patrimonio netto a 28,3 milioni ed in cassa netta, posizione finanziaria netta pari a cassa netta per 2,5 milioni, sostanzialmente in linea rispetto al dato del 30 giugno 2019. Flussi di cassa, dati sui flussi di cassa del semestre 2020 non ne abbiamo, la società non li ha pubblicati, vediamo invece gli ultimi due esercizi 2018 e 2019, guardando i flussi di cassa, 2019 cash flow operativo a 3,8 milioni, investimenti per circa 1,7 milioni, quindi flusso di cassa al netto degli investimenti positivo per circa 2,1 milioni, questa è un'azienda che comunque ha un'ottima capacità di generare flussi di cassa al netto degli investimenti, cosa sicuramente positivo che va a beneficio anche della posizione finanziaria netta. Roe nel 2019 pari al 6,7%, mentre il rendimento del capitale investito netto è pari al 14,9%, calcolato come EBIT su capitale investito netto. Indicatore indebitamento non c'è nulla da dire perché appunto non c'è indebitamento, la situazione vede una cassa netta per 2,4 milioni a fine 2019. Passiamo all'ultima slide, rapidamente innanzitutto diciamo che nei mesi scorsi la società ha pubblicato i risultati al 30 settembre 2020, questa è una delle poche società quotate all'EIM che pubblica anche le trimestrali, risultati al 30 settembre 2020 che vedono ricavi a 17,6 milioni in calo rispetto ai 19,8 milioni al 30 settembre 2019, EBIT da 4,1 milioni rispetto ai 4,7 milioni dello stesso periodo del 2019 con una marginalità di circa il 24% ed un utile netto pari ad 1,5 milioni rispetto ad 1,8 milioni al 30 settembre 2019. Infine l'indebitamento netto è pari a 7,8 milioni rispetto alla cassa netta di 2,4 milioni al 30 settembre 2019, questo però per effetto dell'applicazione del principio contabile IFRS 16 che ha avuto un impatto pari a circa 10 milioni di Euro, questo legato ad un canone di affitto di un capannone, quindi una posta puramente contabile, ma di fatto se andiamo a vedere a livello di poste finanziarie non c'è stata una grossa variazione, quindi è una variazione quella della PFN puramente contabile riconducibile appunto all'applicazione dell'IFRS 16. Inoltre da menzionare anche la notizia di pochi giorni fa che ha scatenato anche il rally sul titolo, appunto è stata deliberata la distribuzione di un dividendo pari a circa 5 centesimi per azione, dividendo a valere sull'utile dell'esercizio 2019, 5 centesimi per azione che alla chiusura di ieri è pari ad un dividend yield di circa il 9% alla chiusura di ieri, che è un valore abbastanza interessante, questo ha scatenato chiaramente il movimento sul titolo, perché è un titolo quello di poligrafici printing che scambia poco, spesso addirittura per settimane non scambia neanche un'azione, è veramente poco liquido, infatti vediamo il flottante è pari al 9,7%, veramente risibile, alla chiusura di ieri la capitalizzazione di mercato era pari a circa 16,8 milioni, non ci sono ricerche, non ci sono equity research su poligrafici printing, quindi non possiamo dire molto sulle stime, non c'è molto da dire, come multipli ho preso giusto un multiplo puramente indicativo, ovvero il price book value calcolato sui dati al 30 settembre 2020, ebbene alla chiusura di ieri il price book value tangibile, quindi prendendo il patrimonio netto tangibile, è pari a 0,59 per, un valore che è abbastanza contenuto, tenuto conto anche del fatto che comunque è un'azienda che fa utili, quindi capitalizzare circa la metà dei mezzi propri tangibili, insomma magari un pochettino eccessivo, però ripeto, questo è anche un titolo che dall'altra come punti deboli, appunto la scarsa visibilità, la scarsa liquidità, flottante ridotto, magari anche un settore, quello della stampa industriale che non è così attraente per gli investitori, magari il mercato segue anche un po' le mode del momento, e quindi questo magari ha penalizzato un pochettino la valutazione del titolo. Adesso non so, mi pareva che il titolo salisse del 9%, guardavo poco fa, diciamo appunto che la news sulla distribuzione del dividendo dei 5 centesimi ha riacceso un po' l'interesse su questo titolo. Quando parli di dividendo agli investitori italiani li tocchi su un tasto molto sensibile, sensibile, esatto. Senti, allora il Frigerio Index com'è su questa società? Mi piace soprattutto di questa società il fatto che questa progressione nella riduzione della PFN in anni che comunque non è che siano di crescita, di vacche grasse per il business. È stato un ottimo lavoro da parte della direzione finanziaria di questa società. Verissimo, verissimo. Devo dire che sono stati molto bravi a focalizzarsi sulle attività core e appunto a ribaltare proprio la situazione, quindi sicuramente sono stati molto bravi da questo punto di vista. Ma diciamo che la marginalità è buona, è un settore che chiaramente ha attraversato anni di crisi, non è una situazione tanto semplice, però dall'altra l'azienda è comunque gestita in maniera virtuosa. La valutazione del titolo non è affatto esagerata, anzi guardando anche solo il patrimonio netto e comunque i fondamentali. Quindi diciamo che è comunque un titolino a seguire, chiaramente poco liquido, quindi non è un titolino da trading, bisogna stare un attimino attenti a gestire un attimo l'operatività, però comunque è un'azienda che tutto sommato e non è male, insomma. È interessante. Allora, senti, abbiamo più che un minutino, però ho visto che avete pubblicato di Mizzimi il rapporto AIM di gennaio, fatto ovviamente da te. C'è qualcosa che salta all'occhio così in un minutino, i punti salienti. Quali sono, Cristian? Ma rapidamente diciamo che negli ultimi mesi AIM ha recuperato, ha recuperato molto, quindi c'è stata una crescita del valore della capitalizzazione, nonostante comunque anche i delisting, nonostante i passaggi che ci sono stati anche sul mercato principale negli ultimi mesi. Un mercato che si sta muovendo, le ultime IPO sono andate molto bene, molto molto bene, sia in termini di domanda da parte del... E continuano anche adattare bene, perché vedo Vantea che continua a fare veramente molto bene. L'ultima, proprio l'ultima società arrivata sul Lime. Bene, meglio così. Altro? Assolutamente. E altro, molte società hanno già pubblicato i risultati preliminari dell'esercizio 2020 e questa è una cosa molto positiva. A gennaio 20 società circa hanno pubblicato i risultati del 2020. Questa è importante in un'ottica di trasparenza e di comunicazione tempestiva al mercato dei risultati. Questa è una cosa molto positiva dal mio punto di vista. Grazie mille al nostro Cristian Frigerio, Meet Sim. Come sempre un piacere Cristian, alla prossima. Grazie Emmerich e grazie a tutti. Terminiamo dunque qui il nostro approfondimento dedicato al mercato del Lime. Grazie a tutti per l'attenzione. Vi ricordo come sempre alle 14.20 quest'oggi Trading Nation. Faremo ovviamente mercati americani in pre-market. Grazie a tutti e rimanete su Classi NBC.